VENERDI DELLA SESTA SETTIMANA DI PASQUA DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli, In verità, in verità io vi dico, voi piangerete e gemerete, ma il mondo si rallegrerà. Voi sarete nella tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in gioia. La donna, quando partorisce, è nel dolore, perché è venuta la sua ora, ma, quando ha dato alla luce il bambino, non si ricorda più della sofferenza, per la gioia che è venuto al mondo un uomo. Così, anche voi, ora siete nel dolore, ma vi vedrò di nuovo, e il vostro cuore si rallegrerà, e nessuno potrà togliervi la vostra gioia. Quel giorno non mi domanderete più nulla. Commento al Vangelo del giorno di Don Luigi Maria Epicoco La donna, quando partorisce, è afflitta, perché è giunta la sua ora, ma, quando ha dato alla luce il bambino, non si ricorda più dell'afflizione, per la gioia che è venuto al mondo un uomo. La suggestiva immagine che Gesù usa per spiegare il significato del dolore dei discepoli illumina, per quanto possibile, l'insondabile abisso che si spalanca davanti a noi nell'ora del dolore. Infatti, paragonando il dolore dei discepoli a quello di una madre, che sta per partorire, Gesù collega la sofferenza a un motivo che non soltanto fa valere la pena di quel dolore, ma che diventa esso stesso il modo attraverso cui superarlo. Infatti, un dolore è insopportabile quando lo percepiamo senza motivo. È il motivo, ciò che ci fa reggere anche la fatica di qualcosa. Quando noi perdiamo il senso, ogni cosa diventa assurda e quindi invivibile, insopportabile. Il dolore di una madre che partorisce non è mai dolore assurdo, ma è dolore carico di significato, e questo significato viene dal figlio stesso. Potremmo quasi dire che una madre affronta quel dolore per amore del figlio. Nella nostra vita, a volte, manca il per amore, per cui le cose non scadano nell'assurdo e quindi nell'insopportabile. La venuta di Gesù è quell'evento che ci dà un per amore per cui non far diventare mai la vita insopportabile. Infatti, non di rado, siamo costretti a vivere cose che ci appaiono come vuote, prive di senso, assurde. La morte di un figlio, la perda di un lavoro, l'esperienza amara di un tradimento, l'esperienza del fallimento. Gesù riempie di significato queste cose non perché le spiega o perché le giustifica, ma perché ci dice, vivi e affronta questo per amor mio. E io ti prometto che queste cose non saranno l'ultima parola. E' qui che comincia o cade il cristianesimo. Infatti, potremmo dire che è tutta un'invenzione per farci piacere ciò che non ci piace, o che è tutto vero fino al punto che tutto sia davvero possibile. Chi ha fede scommette su questa speranza, senza questa scommessa è già tutto perduto.